Aspetta che vengo anch'io a fare ginnastica, voglio mettere a frutto questa quarantena Mamma mia, ora che è quasi finita Eh, le voglio uscire bella forte e tonica, pesetti servono No, e lo dici tutti i giorni, allora ok, però andiamo Aspetta, metto giù Allora sono set da 30 secondi con 10 secondi di pausa, ok? Non c'è tanto al petino? No, va bene, aspetta, bevo un'altra Questo è il primo esercizio, allora ti metti giù e su con le ginocchia per 30 secondi Tolgo gli occhiali Devi stricciare il sedere, mamma dai, metti giù Tolgo il golf Dai mamma, metti i giù Sì, 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 una Mancano 10 secondi, fai almeno questi Pieno di briciole, ma cosa mangiate sempre insana? Ora è la pausa, mamma Allora vado in bagno No, perché questo è l'esercizio dopo Allora è così Esatto E si traccia la scarpa, che si traccia la scarpa un attimo che ho paura di inciampare Questo fa benissimo Se magari ci facessi Puglietti in su, giù le braccia, le gambe indietro, a tutto il corpo Allora il prossimo è il ginocchio alto, lo fai fare? C'è una pausa adesso? No, adesso... No, dai, fai la ginocchia alto, è così, vai Ginocchia, hanno suonato, aspetta un attimo Vengo! Ma chi vuoi che suoni? Mamma, siamo in quarantena! Infatti non è nessuno Questo è il telefono, ma chi chiama a quest'ora? Pronto? Ciao Martina! Sto facendo ginnastica con Marianna Con un tutorial, ma è una cosa tosta, è una cosa seria Da fare tutti i giorni, ma sono pochi esercizi, ma molto tosti Ho già le braccia, che sembro una camionista Senti, vuoi venire anche tu giù a fare? Vabbè, senti dai Ma dov'è il telecomando? Ti saluto, ciao Martina, ad Optiche Ti mando il link del tutorial, ciao, ciao, ciao Ha sentito la musichetta, voleva venire giù a fare ginnastica anche lei E ti ha chiamato sul telecomando? Mamma, davvero hai fatto una telefonata finta? Sì Perché? Perché non avevo voglia di fare ginnastica Ma mi l'hai chiesto te! Lo so, lo so, ma sono confusa in questo periodo, scusami Ma che esempio, dai, dai! Sono una mamma di merda!